Fai la tua mossa? Non ho ancora deciso. È proprio questo che mi preoccupa. Il Fury che conoscevo era sempre avanti. Se non ricordo male, tu hai chiamato me. Sì, perché Talos me l'ha chiesto. La tua assenza negli ultimi anni mi ha mandato un chiaro messaggio. Sarebbe? Non sei pronto per questo, Fury. Abbiamo una minaccia reale. Non sei stato più lo stesso dopo il blip. Mi hai sempre detto che non è un peccato voler mollare quando la strada è incerta. Fa la mossa giusta. O qualcuno si farà male. Non è un peccato. Non è un peccato. Grazie a tutti.